Nella mod challenge, il mod in questione su cui pullerò, cioè per cui pullerò l'account, mi dirà che cosa vuole, quindi il suo obiettivo finale di pull. Se quell'obiettivo va a buon fine, allora tutto a posto, siamo amici, resta comunque nella family, eccetera eccetera. Ma se io dovessi sfigare l'obiettivo della serata, lui si licenzia. Quindi diciamo che io sono un po' in ansia ogni volta che c'è la mod challenge. Ok. A proposito, ma chi vuoi dei quattro stelle? Intanto Iago, grazie mille per il follow. Aspetta, chi è che vuoi dei quattro stelle? E chi stai aspettando? Tutti quanti? Solo una? Solo Barbara? C'è solo lei? Ti interessa? La prima è Shaft? Sì, si sa, si sa. Ovviamente. Ovviamente. Solo lei, quindi gli altri non sono Wirt. Ok. Mi sento che è questo. Non particolarmente, ok? Il Trilling! Il Trilling chiama Barbara. Il Trilling chiama Barbara. Ragazzi, aspettate. Il Trilling chiama Barbara! Sempre! Sempre! E Barbara ce l'abbiamo! Ok, dai. Sono veramente, veramente super felice di questa cosa. Ma sul serio? Mamma mia. La prima è andata, la prima è andata. Le? 5 stelle ce l'abbiamo? Mamma, che ansia! Mamma, che ansia! Che ansia! Ok. Cos'è sto pronostico? What? Cioè, mi hanno fatto un pronostico nel mentre? Sarà catching? No, aspettate. Allora, noi abbiamo il 50 e 50, effettivamente. Quindi, fatemi vedere cosa state per votare. Mi inserichia! 76% sul sì e il 34% sul no. Che ansia! Che sta salendo l'ansietta adesso! Fermi! È Kegin! È Kegin! Quindi, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Ha vinto il 70%, quindi. Ha vinto il 70%. Ok. Sento che esce tra pochissimo. C'è, raga. 4 stelle. Bene. Prego, non c'è di che. Cioè. Cioè. Posso fare così? Che parliamo a fare? Domandate e io vi pullo. Cioè, cosa volete? Ve lo prendo io. Ve lo prendo io. Allora. Oh, una signora Ningguan. Ci sta. Ti serviva? La The Bell? Cioè, nel senso. Ti serviva. Per Beidou. Perché tu la vuoi portare su, Beidou. Quindi. Ningguan chiama Kegin. Ci serviva la The Bell. È per Beidou, comunque. Cioè, nel senso. Pulata a tradimento. Questo è Beidou. Questo è Beidou. Me lo sento. Me lo sento. È lei. La di Beidou. È comunque una Claymore. Siamo sulla strada giusta. Fermi. Togli di Ningguan. Togli di che ci serve. Un'altra Claymore. Siamo sulla strada giusta. Aspetta. Fermi. Un'altra Claymore. Siamo sulla strada giusta. Ci stiamo avvicinando. Il gioco sta capendo che ci serve un personaggio con la Claymore. Quindi, fermi. Fermi. Stiamo iniziando. Stiamo iniziando. Ci sta ascoltando. È tutto il Claymore. È uscita pure la Dupelle. Povero. Dai, Beidou. 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 Allora. È vero che non è Beidou. Però abbiamo almeno una Claymore. Quindi, insomma. Dai, dai. In tutto ciò abbiamo ancora il pronostico del Piti, eh. Cioè, se trovassimo... Se trovassimo Ketchum prima del Piti, comunque sia vincerebbe il sì. Bennett, buono. Buono. Bennett, buono. Dai, diciamolo. Bennett, buono. Ok. Doppio Bennett. Doppio buono. Va bene, va bene, va bene. Va benissimo. Questa pool va benissimo. La, 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 la. Sta salendo l'alto. Sì! Oddio, è chiuso! Sì! C'è tutto biripiri, sa se te... Sì! Ma, raga! Eravamo ancora al 50 e 50. Come ho fatto? Questa è la terza cash di seguito. C'è la seconda cash di seguito. Porca miseria! È grande! È grande, Dio dell'oscuro. Grazie mille! Oh mio Dio! Ma con te non esiste il 50 e 50? Non capisco. Nato? 5 stelle! Fermi! 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 Pronostico up! Adesso! Pronostico up! Pronostico up! Catching o no? No, raga! No! Che ansia! Pronostico up! Voglio subito vedere se è catching oppure no. Vai! Adesso è il momento di spendere la pensione della nonna, raga! È arrivato il momento! La pensione della pensione della nonna dobbiamo spendere su sta pool! Oh mio Dio! Non ci credo! Non ci credo! Tutto 5.000 punti non mi interessa! Ma come il Gino? No! Beh, ormai, ormai... Lello sub! Grazie mille per il follow! Mamma, raga! Che ansia! Cioè, dai! Ma che era? Al pt? Al 20! Quanto... Al 20! No, raga! Allora, se è un back-to-back catching... Cioè, io vi giuro, apro le liste! Apro le liste tra i sub e venite a pullare... Cioè, pullo io il vostro account in live! Cioè... Cioè, ma veramente! Che dobbiamo condividere questa fortuna con tutti! Pronostico chiuso! Pronostico chiuso con il 49% sul sì e il 51% sul no! E parliamo di 97k punti sul sì e 102k sul no! Esatto! Chiuso il televoto! È vero, Gappo! Sembra il televoto adesso che mi ci fa pensare! Fermi! 3d1! C'ho l'ansia pure io! No, è Ginn! No, raga, no! No, tutti tratti Ginn! Tan, tan, tan! Ho comunque perso un mod stasera! No! No, raga, ho perso due mod stasera! Cioè, no, uno l'ho perso sicuro! Beidou, per forza! Vai, Dio dell'oscuro, tacci una Beidou! No, raga, non ci credo! No, raga, non ci credo, non ci credo! Non ci credo! Non ci credo! Cioè, ogni 20 pull è un 5 stelle! Ma che cazzo è? Cioè, Mattius, grazie per il pollo! No, raga, no! No! Ciotto biripi di sasera! Immaginate che è un fake out al contrario! Esce l'animazione 5 stelle, però in realtà non c'è! Tadà! Oddio, veramente! Esce di look di immagini! Oddio! Abbiamo una Catching C4, signori! Una Catching C4! Quindi, diciamo che assolutamente ci è andata molto più che bene! Vedi, hai già preso le 5 pull di oggi? Le hai prese le pull del login? Le vado a vedere nel caso!